Sono Giorgia Garola, amministratore delegato di SCAM, ma soprattutto rappresento la Giunta di Camera di Commercio nel Comitato dell'Imprenditoria Femminile. Mi occupo del tema di internazionalizzazione, perché? Perché è un tema fondamentale per le imprese e soprattutto per le imprese femminile. Non possiamo più essere imprese locali, dobbiamo essere imprese globali. E per questo abbiamo istituito un gruppo di lavoro sul tema, proprio per mettere a confronto le imprenditrici di tutto il mondo, soprattutto con l'European Women Network di Eurochambre, che mette in contatto e a confronto le imprenditrici di tutta Europa.